Parliamo con Mattia Morello, autore di una doppietta oggi, insomma un bel pergo soprattutto nel secondo tempo, una grande tua prestazione. Sì, sono d'accordo. Secondo me al primo tempo eravamo un po' frenetici e volevamo subito trovare il gol. Purtroppo non ci siamo riusciti, nell'esplorato oggi siamo detti che dovevamo giocare tranquilli, palla a terra, ed è quello che abbiamo fatto il secondo tempo. Per fortuna sono arrivati i quattro gol e poi sono davvero felice per la mia doppietta oggi. Ti senti ormai un grande di questa categoria? Un grande nel senso non più un under ma uno che ce la gioca alla pari anche con i più vecchi di questa categoria? Sì, man mano che giochi e partite sai prendi fiducia sia con i compagni sia la fiducia che ti dà il mister e questo penso sia molto importante. Adesso testa i playoff che come obiettivo sono stato raggiunto, quello è l'obiettivo del finale di stagione e giocarli al meglio? Sicuramente, adesso abbiamo altre due partite, cercheremo di vincerle tutte e due, poi sarà la classifica a dire dove siamo arrivati e cercheremo di vincere anche i playoff.